Come è la mia paziente più giovane? E abbiamo preso le sue radiografie, guardate si vede molto bene il quadro di artrosi, vedete che la tibia e la stragalo, cioè la caviglia, è sparita, le ossa si toccano, c'è un attrito e l'attrito è la causa del dolore, come lei spiega molto bene, quindi la caviglia è bloccata perché l'articolazione non c'è più, è completamente riassorbita. Questa è la visione laterale, vedete la deformità dei capi ossi articolari, gli esiti dell'intervento, questa caviglia non può muoversi, questo succede all'età di 19 anni. Questo è per un trauma? È stato un trauma, è stato un brutto trauma, un brutto incidente. Questa ragazza a 19 anni non poteva più uscire di casa, non poteva stare con le amichette, non poteva più studiare, non poteva andare all'università e questa è stata la sua protesi. Abbiamo avuto il coraggio, la decisione di ridare il movimento a questa ragazza che adesso fa la sua vita, sta all'università, mentre noi parliamo, questa ragazza è stata operata sei anni fa, mentre noi parliamo è in un Erasmus a Barcellona, quindi sta camminando sulle Ramblas. Questa è la deambulazione con le scarpe. Si potrebbe pensare che nelle scarpe ci sia un supporto. Togliamo le scarpe ed ecco la nostra paziente che deambula abbastanza bene, la flessibilità è molto ben recuperata e esce con le sue amiche, ha recuperato la sua vita, una vita che era invalida e infelice.